Tracciare linee per il futuro e fare il punto sulle novità scientifiche, sociali, cliniche e relazionali nell'ambito dell'oncologia emerse durante il corso dell'anno con gli opinion leader nazionali e gli esperti del settore marchigiani. È l'obiettivo di Marc Angolo, il convegno più importante delle marche in campo oncologico, ideato da Rossana Berardi, professoressa ordinaria di oncologia all'Università Politecnica delle Marche e direttrice della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona e dal dottor Renato Bisonni, direttore di oncologia dell'ospedale Murri di Fermo, che quest'anno si arricchisce di approfondimenti clinico-sociali legati al Covid-19. Marc Angolo quest'anno si pone il problema di come superare questo momento difficile e tracciare le linee per il futuro. C'è stata la costituzione della rete oncologica regionale da parte della regione con un atto formale. Questo però in questo momento significa doversi impegnare perché la sostanza di quello che è stato espresso in questi anni, una grande solidarietà, una voglia di crescere insieme, specialmente con le associazioni dei pazienti, possa essere confermato e possa essere appunto nell'agenda del futuro dell'oncologia marchigiana. Un incontro tra professionisti del settore che giunge alla sua dodicesima edizione e che a partire da oggi, 27 novembre e proseguendo domani, 28 novembre, si confronteranno in via telematica con meeting multidisciplinari, affrontando tematiche che vanno dalle tipologie di tumori alle terapie del supporto all'approfondimento sull'oncologia ai tempi del Covid. Saranno coinvolte in modo attivo anche le associazioni di volontariato e di pazienti e di il personale sanitario delle oncologie. Marcangolo è una struttura in crescita, una struttura nella quale oggi al centro ci sono le idee per il futuro. La fantasia è la capacità di rispondere al meglio a queste gravi malattie che possono avere una risposta. Sempre di più abbiamo le risposte giuste e sempre di più dobbiamo cercare di combattere per vincere.